musica 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 io lendo qua marty ti sta contestando uno soltanto no due uno ti è atterrato sul tetto morto un anonimo ma infatti uno aveva lendato mi sembrava ce la fai? sono tutima persona sono tutima uno da me io riesco a stare chill vediamo se riesco a venire da te dove? sopra dove? 79 blu 75 uscirò da dietro lo sento qua sopra è bianchissimo proprio lì dietro l'altra però non posso taglia questo quella la dobbiamo pushare l'ho distrutta ma qua ce n'è uno qua a destra? si si ce n'è uno e allora l'ha lasciato l'amico 49 49 io gli ho fatto 49 presi il muro 53 knock sta scappando l'amico 33 è craccato è qua marty 24 ha detto sei in testa? morty ok allora non spreco l'impulso vuoi un big? non lasciati non lasciati due dietro mi sa ho preso due splash allora tieni qua fate queste due splash qua me le porto proprio ok ok dove sono i big? erano lì dentro comunque non erano la nostra taglia no 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 vero 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 quello è robottino maledetto mi faccio un attimo il medikit si si vabbè questi corrono eh mamma mia ormai non li prendiamo più 40 secondi dobbiamo proprio prenderli e killarli tipo in due secondi no questi non si fermano proprio questi vanno ad oltranza ormai no in verità si stanno fermando eh perché si è mosso il cerchio ma erano qua ce li killiamo subito questi altro che è 10 secondi appena arriviamo eccolo quello avanti proprio oh ca... ma è solo? no no sono i due sono i due robotini eh mo faccio a capire quale è quello no ok non ce lo facciamo più 5 secondi allora seriamo l'ultimo vai quando vuoi io ci sono vai vai craccato craccato mini 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 vai 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 what no mi ha fermato non mi ha spaccato in metallo vabbè arrivo attenta eh attenta eh impiazzato giù giù prende il muro a uno in area 99 a quello che ha volato arrivo 72 il mio box 80 80 one hit era lui con la nostra taglia bimbo nutella è qua 24 4 vado dall'altro lato io 120 morto ho un big in più ce l'ho ce l'ho tranquillo tanto lo sprechi e ti serve no? si si tanto la posso portare ehm si si rivedo vedo ora parte la safe eh non abbiamo impulsi niente andiamo andiamo vieni qua allora guarda 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 la 23 questi sono da fare tutti tutti qua tutti quanti Dani ma lì vedi quelli free safe eh? si 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 morto infatti quelli voglio fare ma c'è ancora qualcuno si si lo vedo vedo sono lì ascio qui vado 30 30 craccato Marty vai la sono di lato push 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 35 bianco l'alleato è lì in fondo eh 35 morto vai questo è morto subito ok non era non era l'alleato ci sta un tipo qua sotto Marty lasciamolo con like si si gli avevo fatto doppio doppio body di scar 100% capito chi dici la tizia eccolo skin bianca sulla neve non si vede non si vede ce l'ho visto per pelo proprio 27 29 è crackato è da solo eh mi sa eh si si no no ma è solo è solo è solo 100 100 ah lo stanno bocchiando ah l'hanno ucciso 35 blu al robottino robottino nero ah ok vissi 35 52 52 52 52 52 è bianco è di più bucciallo è bianchissimo te lo tiro su mia madre ok mamma mia che c***o io ho fatto 48 ci sono le sciocco Marty prendetele facciamoci queste ok vai si le sciocco le prendo sono 3 quanti flop sono? ok va bene va bene 35 35 35 35 arcato dobbiamo pusharli ok vuoi pusharli io li pusherei arrivo 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 35 bianco mi curo vciale se vuoi eh l'ho distrutto qui c'è un robotino da me allora aspetta un secondo non ci credo doppio 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 tab di tattico mi ha tirato ecco perchè mi ha double tappato avevo il tattico ora puoi farti lo sillone eh si in safe quindi puoi chillare eh ma voglio andare a prendere i flopper eh ma non ti conviene lasciare like Marty no no ma infatti no 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 però era buono ah niente ti vogliono proprio questo aha mi voleva no? mi sa che non mi vogliono più potresti anche pushare questo qua sopra comunque eh come vuoi tu poi eccolo eccolo hai la safe Marty e tu puoi spammarli proprio ne hai uno qua sotto questo qua sopra di te dovrebbe essere uno solo questo qua sopra di te dovrebbe essere uno solo ah sto prendendo veramente l'albero ah sta prendendo veramente l'albero ah sto prendendo veramente l'albero non riesce a buttarli giù è tanto ai due flop no il game si è fizzato no se voglio così rosico sto parlando di safe dai però non mi si può frizzare il game mid game ma questo era pure un solo me lo scopo facile in solo non ne vedo l'altra cosa un'altra pente da regale un bellissimo game chat me la stava giocando egregiamente benissimo ma di pare che mi si vede game durante l'end game dove prendere venti danni di safe ma ti svegli c'è pure impulsato